Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Perla Batiero e Mirko Brunetti sono stati protagonisti di Verissimo nella puntata del 31 marzo, pochi giorni dopo la conclusione del Grande Fratello. La coppia vincitrice del reality si è aperta nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando la loro esperienza e i progetti futuri. Perla ha ammesso di non aver previsto di vincere, confessando di dover ancora elaborare l'emozione. Ha descritto l'esperienza come un viaggio unico e magico, evidenziando l'entusiasmo dei suoi genitori per la sua vittoria. Mirko, al momento dell'annuncio della vittoria di Perla, l'ha immediatamente abbracciata, rivelando che entrambi desideravano ardentemente poter godere del momento senza la pressione delle telecamere. Tuttavia, la loro storia non è stata priva di ostacoli, soprattutto quando si sono trovati a dover affrontare la presenza di Greta Rossetti, ex fidanzata di Mirko e concorrente del Grande Fratello. Nonostante ciò, il legame tra Perla e Mirko è rimasto saldo nel corso del tempo. Durante la loro permanenza nella casa, Perla ha avuto l'opportunità di confrontarsi con Greta riguardo alla loro situazione con Mirko. L'avatiero ha chiarito che Greta ha ammesso di non essere realmente innamorata, definendo il suo interesse per Mirko come un'infatuazione momentanea. Greta, arrivata successivamente nello studio, ha ribadito la sua amicizia con Perla, sottolineando come quest'ultima sia stata la sua fonte di forza durante il reality. Mirko, pur proiettato verso un futuro con Perla, ha espresso la volontà di procedere con calma per evitare gli errori del passato. Ha sottolineato l'importanza di vivere il loro rapporto con spensieratezza e normalità, evitando di affrettare le cose. Perla ha confermato l'importanza di Mirko nella sua vita, annunciando che non hanno intenzione di convivere subito, ma di dare priorità al recupero delle loro vite individuali.